direzione valle di varco montecervia da qui montecervia e dalla partenza che è con le giove da un'ora e venti e noi ce lo fanno in mezz'ora si parte subito in salita piano piano poi piega anche per le vipere quelle vanno bene lo sai vero si corradino usa sempre quelle d'estate corradino le usa sempre anche d'estate infatti una volta che vanno ma che cazzo fai porti quelle d'estate perché vanno bene per le vipere chi è? le ghette continua la salita al monte cervia tosta sì perché perché il gusto ci guadagna ecco le campane di colle giove sono le 8 da colla già abbiamo messo 15 minuti fino qua siamo entrati nel bosco nel monte cervia no ma ora si cammina nel bosco un po' poi si riesce fuori una volta che esci fuori dopo però è finita laghetto alpino in alta quota una sorgente naturale poi abbiamo Cristina che si è incriccata la spalla l'omero l'omero no l'utero l'utero sta di sotto l'omero sta sopra tira un po' tira tenta non scappare la sgureggia però fai quando tira 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 oddio che dolore oddio mi sei rotto mi sei rotto l'omero l'omero l'utero l'utero e tu dico i culi della montagna che camminano vedi i culi laggiù abbiamo il navegna il venino sirente ormai la neve è scomparsa quindi speriamo si sbriga le nostre signore continuano a salire verso il cervia parte da Collegiove da un'ora e venti al Monte Cervia, sono un'ora e venti di salita, ora stiamo nel bosco, una salita che non ti molla un attimo, che miseria, ma è veramente dura, poi è parecchio tempo che andiamo in montagna, sempre ora stiamo preso a fare i passeggiati nella duccia, tutta in piano, capi dai! Siamo usciti dal bosco, siamo usciti dal bosco, scudo dal divertimento, oh oh oh, come dicono abruzzesi è rotta per rotta, da qui da 30 minuti a Collegiove e 25 minuti al Monte Cervia, che poi il Monte Cervia è questo qua sulla sinistra, quello pieno d'arberi è il Monte Cervia, con la sicurezza del Monte Cervia. Ma come si fa ogni volta con te? Guardate, ha pure un bel venticello freschetto, si fatti, guarda che bello! Stai registrando, aspetta a farti una foto io! Vai vai! Oggi in Navigna c'è la nuvola fissa eh! Passo piove! Siamo su Colle Pobbio, nella zona di Colle Pobbio, quello dietro il Monte Cervia, che raggiungeremo tra poco, adesso vi faccio vedere il Lago del Turano, il Lago del Salto, da quest'altra parte non credo che si vede, quello laggiù è il terzo bosso è Colle Pobbio, quello giù in fondo è il Navegna, Navegna e Filone, Monte Filone e Monte Navegna. Allora, guarda, dove vedi quella mezzetta là? Ecco il Lago del Turano, siamo lungo la Cresta che da Colle Pobbio porta sul Monte Cervia, se puoi stare sul Colle Pobbio avete il panorama sul Lago del Turano e sul Navegna e Monte Filone. Che fai a camminare più, già tevi stanchi? Ah ok! No, stavo a parlare, parlavo al Filmino, mentre giravo il Filmino, davo delle spiegazioni, ciao ciao! Eccoli in prossimità della vetta del Monte Cervia, nel fondo del Lago del Turano, tutta la tua bellezza. Mira e Cristina sulla vetta del Monte Cervia, c'è una crociaccia proprio, però c'è il 1437. Mettemola dritta. E ora fa cascare il tutto. Se fino adesso stavo in piedi è data per mila. Tete e serpenti dentro. Olè, Monte Cervia. Olè, eccola. Sistema la croccia. Ok. Dopo Monte Cervia ci avviamo verso la croce di Monte Cervia. Cristina sta a fare la raccorta di tutti i fiori. Ma hai visto questo? C'è anche qua un fior di cacca. Sì, sì. C'è qua c'è fior di cacca. Sì, che c'è arrivato? Che c'è arrivato qua? Ui, c'è arrivato. Un fior di cacca. Ma devo fa grave? Mica vi vedo io. Non so manco se vesto di pia porca miseria. Ecco. E non te ve lo proprio. Ma a me non me hai visto? No, l'ultimo secondo. Vieni, vieni. Oddio, aspetta che c'ho il telefono in mano. Aspetta che è scivolosa la roccia. ciao bella gente questa è una ragazza aggrappato buona però potevi mettere la mano non stringere siamo quasi arrivati alla croce di monte cervia monte cervia sta lassù eccola si sta annuvolando croce di monte cervia eccola all'arrivo da qui grandissimo panorama sul paese di collegiove che sarà messa apposta figurati dacci costa sti moscelini di merda eccola lassù croce di monte cervia eccola sembra ora ci sono certe margherite gialle giganti qui da barura ma grossi guarda eccole la verso la cima di vena maggiore aspetta che c'è il cascaval che è che c'è il cascaval che è il formaggio oh signor cascavallo 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 lungo la cresta che dalla croce di monte cervia porta alla cima di vena maggiore dietro c'è il cervia che ormai si sta coprendo la nebbia si arriva però non arriva la pioggia a darci la guardiamo se sta a coprire anche se già si sta a sparire vedi sono già tre quattro volte che viene e va che viene e va discesa dalla vena maggiore porca miseria non si vede niente su sto schermo venga 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 qui fortunato hanno disegnato tutto quanto bene bene sto sentiero questa è segnaletica nuova paletti nuovi segni nuovi bella hanno fatta benissimo l'ultima volta c'era stato io mi mancano tutti i segni da sta parte non mi sono mai piaciuto a nessuno ma anche a me un moschino a parte ma pure brutto come montagna ma pure brutto c'è niente che bello ecco qua palmila e dopo aver fatto il monte cervia quindi è nato a dama ha mangiato la pedina si è mangiato il panino però diciamo che si è mangiata la pedina anche l'arancia anche l'arancia via via andate ciao 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 ci salutiamo più giù ci salutiamo ok carta escursionistica del monte cervia no no temporale no 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 no